Benvenuti, siamo con il professor Giacomo Stella, già professore ordinario di psicologia clinica al Dipartimento di Educazione e Scienze Umane presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, fondatore dell'Associazione Italiana di Slessia, autore di numerose pubblicazioni e direttore di numerosi corsi di perfezionamento e membro del comitato scientifico del progetto Book in Progress, del comitato tecno-scientifico per l'attuazione della legge 170 e del comitato promotore per il panel dell'aggiornamento e revisione del Consensus Conference su IDSA. Benvenuto, professore. Grazie a lei e benvenuti gli ascoltatori che sentono tutte queste partecipazioni, ma insomma sono anziano e purtroppo, no purtroppo sono anziano, ma ho fatto molte cose certamente nei confronti di questa problematica della dislessia in questi anni. Ecco, professore Stella, per iniziare, ci dice appunto cos'è la dislessia e a che punto siamo oggi nel riconoscere e intervenire su questo disturbo del neurosviluppo? Sì, allora, intanto prendo l'ultima parte della sua domanda. La dislessia è un disturbo del neurosviluppo, però uno dice, vabbè, cos'è? I disturbi del neurosviluppo sono stati un'acquisizione relativamente recente nel campo delle neuroscienze, diciamo relativamente perché in questi anni si continua molto a studiare il problema dislessia. In realtà oggi i disturbi del neurosviluppo sono considerati una categoria per cui non si parla più solo di dislessia, ma anche per esempio di disturbi di apprendimento più in generale. Quindi disturbo della scrittura, disturbo grafomotorio, disturbo del calcolo. Ora, cosa sono appunto, dice lei? La dislessia è quello più conosciuto ed è una difficoltà che si presenta in soggetti intelligenti, quindi che avrebbero tutte le qualità per imparare a leggere come tutti i bambini, come la stragrande maggioranza dei bambini. Ma invece purtroppo succede che hanno molte difficoltà, sia in fase iniziale nel riconoscimento delle lettere, confondono per esempio lettere simili come la b o la d, oppure come la e e la a, che sono, quando sono in script, sono rovesciate, come dire. E quindi all'inizio hanno questa difficoltà e successivamente mantengono una notevole lentezza nel processo di decodifica, cioè di lettura, di trasformazione dei segni scritti in parole dette ad alta voce. Questa difficoltà è una difficoltà, perché è inspiegabile per certi aspetti, perché uno dice ma come un bambino intelligente, vivace, gioca come tutti gli altri, quando gli chiedo di leggere non sai. Ma è invece dimostrato, anzi è uscito proprio su Nature un mese fa, forse meno, un articolo in cui sono stati identificati i 42 geni coinvolti nella dislessia. Quindi è evidente che c'è una base neurobiologica difficile da dimostrare, perché non da dimostrare, difficile da capire, perché non si tratta di bambini che hanno delle lesioni, ma si tratta di, come dice ormai tutta la scienza, di neurodiversità. Così come noi abbiamo tratti somatici diversi, l'uno dall'altro, siamo tutti diversi, tranne i gemelli monozigoti, che anche loro hanno qualche piccola differenza, tuttavia anche il nostro cervello è diverso, è neurodiverso. Cioè la costituzione neurologica che dà luogo alle connessioni, i neuroni e le connessioni fra i neuroni sono lievemente diverse. Se noi dovessimo esaminare queste differenze rimarremmo stupiti, perché le ricerche dimostrano che in alcune aree del cervello basta meno di un millimetro quadrato, meno di un millimetro quadrato di superficie, per ostacolare dei processi di apprendimento. Quindi per esempio per quanto riguarda la lettura è stato dimostrato che in alcune aree della corteccia occipitale, che sono deputate al riconoscimento delle parole, i dislessici hanno piccolissime differenze, talmente piccole, che anche una risonanza magnetica normale di quelle che si fanno oggi negli ospedali o nelle cliniche non lo metterebbe in evidenza. Ci vogliono delle macchine particolari che naturalmente sono state utilizzate per dimostrare la natura di questo disturbo, ma che non debbono essere utilizzate da parte dei genitori o delle famiglie per diagnosticare un bambino di lesico. Perché? Perché ci sono molte prove ampiamente standardizzate che dimostrano le difficoltà di lettura. Per esempio, io stamattina ho visto una bambina che fa la terza primaria, gli insegnanti hanno sospettato delle difficoltà e io ho fatto una valutazione. Questa valutazione richiede prima di tutto che venga fatto il quoziente intellettivo, perché la dislessia è un disturbo che si presenta in soggetti intelligenti. E quindi poi diverse, numerose prove di lettura, di singole parole, di parole inventate, di un piccolo testo. E cosa viene fuori? Che c'è una differenza molto rilevante tra la sua capacità di leggere questi stimoli e quello che di solito fanno i bambini di terza primaria, perché devono essere prove che hanno una validità psicometrica solida. Quindi questa è la dislessia. Allora cosa succede per una bambina come questa? Che in classe ha molte difficoltà, ma anche a casa, a fare quello che le viene richiesto. Per esempio, una prova piccola di verifica per la comprensione di un testo, ovviamente il bambino dislessico non è, ha bisogno di molto più tempo e spesso fa molti errori. Spesso fa molti errori per cui alla fine risponde sbagliato, anche se la risposta è solo mettere una crocetta. Anzi, purtroppo è così. Le faccio un esempio. Mi ricordo un adulto perché la dislessia tende a persistere, appunto perché non è una malattia, non è nemmeno l'esito di una lesione, è proprio un elemento di costituzione neuropsicologica. Quindi mi ricordo una volta un adulto che mi diceva, ah sì, guardi, anche io ho ancora queste difficoltà di lettura che mi capitano ogni tanto a sorpresa, perché facevo un cruciverba, non riuscivo a trovare la soluzione di questa frase in cui c'era scritto, la usano i centenari, la usano i centenari, B, quattro lettere, cosa usano i centenari, una parola di quattro lettere. Poi allora chiede alla moglie e la moglie dice, ma scusa, ma non è scritto centenari, è scritto centauri, e quindi la moto. Allora, vede, quello che sottolineo è che spesso gli adulti, gli insegnanti, i genitori dicono, ma rileggi bene, ma come ho appena dimostrato, questo rilegge facendo lo stesso errore o commettendo qualche altro errore. Quindi il problema dislessia consiste in questo, in una consistente difficoltà di decodificare il testo scritto che nel tempo si attenua, uso proprio specificatamente questa parola, cioè non scompare, si attenua. Ma scompare solo se nei casi in cui c'era uno sfumatissimo problema, allora è chiaro che attenuarsi vuol dire far scomparire il problema, ma nella maggior parte dei casi, per i bambini, questa difficoltà si attenua molto lentamente, per cui purtroppo non interessa solo la scuola primaria, ma anche la scuola secondaria di primo grado, spesso la scuola media superiore e poi anche l'università, anche se il problema nel tempo si trasforma. Perché? Perché continuando a leggere per motivi di studio, per motivi di frequenza scolastica, il soggetto impara un lessico ortografico, però tende a commettere errori un po' appunto di anticipazione, cioè crede che una parola sia scritta in un modo, invece non è, non è, no, stamattina c'era scritto foglio e la bambina ha letto figlia o famiglia, oppure ecco perché, perché è un processo normale per ridurre lo sforzo di decifrazione, io cerco di riferirmi a un'ipotesi lessicale e commetto degli errori, insomma. Poi ci sono errori di trascrizione, spesso le H, spesso gli apostropi, l'accento, le doppie, per esempio, che sono molto difficili per l'italiano perché sono una rappresentazione dell'allungamento della consonante. Allora, i bambini sono in grado di parlare correttamente, ma nel momento in cui ne fanno un'analisi più approfondita per trascrivere, o le mettono dove non ci vanno, oppure nella maggior parte dei casi le omettono. Ecco, giusto per curiosità, lei citava che era un'area particolare, ma per caso è l'area di Venice che vive coinvolta in questo disturbo? Sì, allora, in realtà io ho citato quello perché è una delle aree, perché la dislessia coinvolge diverse aree, io lo chiamo il triangolo della dislessia, e cioè è come immaginare un triangolo in cui c'è l'area di broca e della comprensione, quindi la ricodifica, poi c'è questa area del riconoscimento della forma della parola che è nell'area occipitale, e poi naturalmente c'è una proiezione nell'area anche di verniche, ma non solo, insomma, nella corteccia prefrontale per pronunciare le parole. Quindi c'è una specie di triangolo che purtroppo, che noi attiviamo sempre quando leggiamo, quindi sono processi di, è una rete neurale che viene attivata e connessa e che nel dislessico o anche nel discalculico, nel discalculico coinvolgendo altre piccole zone della corteccia, purtroppo producono questo piccolo. Ora, ci sono piccolissime anomalie funzionali, ho usato proprio il termine anomalie, non difetti, non disturbi, che però producono degli effetti consistenti. Ecco, per sostegno, un aspetto particolare rivestito dalla memoria di lavoro. Di solito si pensa che nell'apprendimento sia semplicemente importante ricordare le informazioni, andando così a lavorare sulla memoria buco termico. Ci dice invece quanto è importante la memoria di lavoro nell'apprendimento e qual è il funzionamento negli studenti con un disturbo specifico dell'apprendimento? Sì, questa è una domanda molto centrale e importante, perché l'inefficienza del sistema di memoria di lavoro, che adesso vi dirò cos'è in breve, è uno dei tratti più ricorrenti nei soggetti con disturbo di apprendimento. Diciamo che nell'80% dei casi i bambini, ma anche gli adolescenti e spesso anche gli adulti con disturbo specifico di apprendimento hanno un deficit di memoria di lavoro. Allora, cos'è la memoria di lavoro? Intanto, come ha detto lei, bisogna distinguerla dalla memoria a lungo termine, perché la memoria di lavoro è una funzione di transito. Una mia collega americana diceva è come annotarsi le cose sui fogliettini sul post-it, è come avere tanti post-it, perché la memoria di lavoro intanto è una forma di memoria a breve termine, ma non coincide con la memoria a breve termine. La memoria a breve termine è molto importante perché, soprattutto la memoria a breve termine verbale, perché il linguaggio verbale scompare appena viene prodotto. Se io le dico un numero, un numero qualsiasi per chiedere, e le chiedo di ripeterlo, 2896. Ripeto, ma nel frattempo è passato un po' di tempo. Dove è finito questo stimolo? È stato registrato in un'area della corteccia, che è l'area temporale posteriore sinistra, appunto, che lei ha citato prima, e che è coinvolta nella dislessia, e questa area ha registrato. È come scrivere sul bagnasciuga, ma, come lei sa, sul bagnasciuga lo stimolo rimane impresso solo per un tempo molto breve, poi arriva l'onda successiva e lo cancella. Il problema per i dislessici, come diceva un mio autorevole collega olandese, è che per loro è come scrivere sulla sabbia semiasciutta, cioè non sempre sono in grado di fare quella semplice ripetizione che ha fatto lei e magari dicono 2700, adesso non mi ricordo neanche più il numero, l'ho detto a caso, ma insomma dicono un numero simile, ma non identico. Allora, questa è la memoria, verbo alle brevi termini, e la memoria di lavoro? La memoria di lavoro è la manipolazione delle informazioni, perché se io le dicessi un altro numero, per esempio, prima di dirgli o le dico cosa bisognerebbe fare, io adesso le dirò un numero, ma lei non deve ripeterlo, deve dirmi la seconda e la quarta delle cifre che servirebbero per trascriverlo, 26.917. Seconda? 26.1. E quarta. Esatto. Allora, vede, lei ha dovuto fare uno sforzo di attenzione e di manipolazione, non semplicemente di copia dello stimolo, non di copia dello stimolo. Allora, in che cosa interviene la memoria di lavoro? Per esempio, in classe, se io ho detto un numero come quello che le ho detto, 23.817, ammesso che fosse quello, ma insomma lei mi dice, bisogna trascriverlo, e quindi trattenerlo in memoria, coinvolgere, vede, la memoria di lavoro mette insieme alcuni circuiti, il circuito verbale, per esempio, e il circuito aritmetico, in cui c'entra la posizione del numero, quanti sono i numeri che devo scrivere, eccetera, eccetera. Se io le dico scriva 105, io devo, oppure se io le dico, mi metta in ordine alfabetico il numero 6, 5, 9, 9, in ordine alfabetico. Io la costringo a richiamare i due sistemi, uno quello numerico, e l'altro quello alfabetico per l'ordine. Quindi non voglio farla troppo complicata, ma la memoria di lavoro è questa. Quindi interviene nella comprensione del discorso, nella comprensione del testo, nella trascrizione delle informazioni. Pensi a prendere appunti. Prendere appunti vuol dire ascoltare e contemporaneamente scrivere delle parole, fare delle scelte. Quindi l'insegnante si lamenta con l'adolescente perché non prende appunti, ma magari l'adolescente o sta attento o prende appunti, perché se prende appunti sovraccarica la memoria di lavoro e quindi non riesce a fare le due cose. Oppure un altro aspetto molto importante della memoria di lavoro è recuperare le informazioni dal lessico. Cioè, per parlare io devo utilizzare delle parole specifiche che ho depositate nel mio lessico, ma non posso scegliere una alla volta. Mentre sto parlando con lei sto continuando a pescare nel mio lessico cristallizzato, cosiddetto, cioè nel magazzino lessicale, e cerco di estrarre le parole appropriate, non qualsiasi parola che mi viene in mente. questo per i ragazzini soprattutto si evidenzia soprattutto con lo sviluppo scolastico, perché anche se un bambino di terza, quarta, primaria non è fluente nel parlare, viene tollerato, ci mancherebbe, insomma, no, anzi viene spesso aiutato, ma in terza media se io devo fare una breve esposizione bisogna trovare le parole specifiche, devo parlare di feudalesimo, di feudatari, eccetera, no, e questo chiama in causa la memoria di lavoro. Allora spesso le famiglie dicono ma il ragazzino studia tanto e le cose me le sa ripetere, sì, ma le sa ripetere, ma poi riorganizzarle estraendo quello che serve, vede, per esempio, la memoria di lavoro c'entra anche nell'apprendimento delle tabelline, perché imparare le tabelline in sequenza è una cosa, ma pescare dentro a una sequenza di numeri che sono il risultato di moltiplicazioni, un numero specifico richiede la memoria di lavoro e se io ogni volta devo ricominciare a dire tutta la tabellina, lei capisce che sovraccarico l'attenzione, lo sforzo e la probabilità di fare molti errori è molto più elevata di quando io invece faccio solo, sono capace di dire che 8 per 4 fa 32, senza dover fare 8 per 1, 8 per 2, 8 per 3, eccetera. Quindi, devo dirle che tutti i ricercatori sottolineo che la memoria di lavoro è uno dei principali e più affidabili predittori del successo scolastico e anche lavorativo dell'individuo, perché la capacità di manipolare gli elementi in memoria è molto importante. Ecco, lei ci ha fatto degli esempi molto importanti, appunto, i carichi di lavoro, perché non dovete dimenticare che noi comunque abbiamo delle capacità limitate, quindi se le consumiamo in un certo verso poi non riusciamo a fare tutti i lavori. Cosa cambia, ad esempio, nella scuola secondaria quando i bambini, i ragazzi, i bambini diventano ragazzi e cambiano anche i carichi di lavoro, ma cambiano anche gli studenti. Che cosa succede nel passaggio, alla fase adolescenziale, in particolare per un ragazzo con l'USA? Sì, allora, intanto la questione della memoria di lavoro diventa centrale, soprattutto nell'adolescenza, nell'adolescenza, perché io devo recuperare tante informazioni, metterle insieme, quando quando le studio le organizzo in un certo modo un po' ripetitivo e quella si chiama memoria episodico-dichiarativa a lungo termine, ma poi devo schiarle, perché a scuola non è che devo ripetere a pappagallo una serie di notizie, nozioni o informazioni, anzi, la capacità del soggetto è quella di mettere insieme informazioni di natura diversa, quindi i carichi di lavoro sono quanto di peggio per il dislessico, perché non riesce a gestire e a organizzare le informazioni, oppure le gestisce una per volta ma non riesce a fare quell'integrazione di cui le ho fatto l'esempio, dimmi in ordine alfabetico i numeri, vuoi dire che non sai l'ordine alfabetico? Sì, ma in questo momento non riesco a combinare due moduli, cioè due reti neurali che funzionano indipendentemente, prova a dirmi l'ordine alfabetico A, B, C, D, E, F, G, benissimo, prova a dirmi i numeri in ordine crescente, 3, 6, 8, 9, 11, benissimo, adesso metti insieme dimmi in ordine alfabetico il numero 6, il numero 6, che viene per esempio il 5 viene detto prima oppure il 9 viene detto prima del 6 perché la N viene prima ma questi sono compiti complessi, semplici per chi non ha disturbi dell'apprendimento. Quindi il carico di lavoro aumenta l'espressività di questi problemi e quindi come bisognerebbe fare? Cosa bisogna dire agli insegnanti? È di due cose. Uno, quando uno ha dei problemi di memoria di lavoro bisogna trovare dei sistemi esterni di memoria. È come dire se io ho una CPU del computer o una RAM che è ridotta ho bisogno di potenziarla, ma nel cervello non si può fare facilmente queste cose e quindi gli strumenti compensativi in particolare quelli informati ci servono per fare questo. Seconda cosa, bisognerebbe che gli insegnanti facessero un lavoro molto importante che sanno fare solo in pochi, la potatura delle informazioni. Cioè che cosa serve davvero al mio studente e gli rimane in testa anche fra cinque anni o fra dieci anni. Perché io che ho insegnato fino all'altro giorno all'università mi trovavo gli studenti che hanno fatto il liceo scientifico e non si ricordano neanche come si trova l'area del cerchio. Allora a cosa serve questo apprendimento scolastico di tipo puramente mnemonico? Quindi quello che conta è far ragionare. Quello che conta è magari usare dei sistemi esterni di memoria ma far risolvere i problemi ai ragazzini. Quindi questo è importante. C'è un un filosofo italiano che si chiama Luciano Floridi e che ha secondo me coniato un termine che sintetizza bene le cose dice i giovani nella vita di oggi hanno uno studio on life on life non è un errore lessicale è proprio dire mescolano le esperienze con il computer la scuola invece rifiuta google rifiuta le informazioni perché come dice un altro mio collega un filosofo Raffaele Simone dice la conoscenza che noi ricaviamo attraverso i mezzi informatici è conoscenza irrelata cioè scordinata non correlata è il contrario di correlata sì ma dico io bene il ruolo degli insegnanti oggi è cambiato non è più solo quello di trasmettere le informazioni che tanto le informazioni le troviamo non si può far concorrenza a google google sa tutto nessun insegnante sa tutto quindi il compito del docente è quello di trasformare la conoscenza irrelata nella conoscenza correlata cioè far ragionare conflittualizzare mettere di fronte varie ipotesi come si risolve no oppure che informazioni dobbiamo cercare per esempio la ricerca delle informazioni la scelta su cosa cercare è molto importante perché è indice di un processo attivo che il soggetto anche con disturbo di apprendimento perché abbiamo già detto ripetutamente che ha un'intelligenza adeguata è un indice di un processo attivo che è quello che il prerequisito fondamentale della conoscenza ecco chiudiamo con una battura finale lei citava appunto il fatto che la memoria a lungo termine va in conto all'obbligo informazionale quindi tende a essere dimenticata se non rinforzata oggi è un consiglio ai docenti perché spesso capita che si trova di fronte a ragazzi anche intelligenti svegli con questo disturbo che magari anche non è stato riconosciuto e spesso si accusa di essere svogliati o quanto meno che non si applicano abbastanza è caso anche di personaggi famosi che hanno raccontato anche in libri di queste esperienze uno su tutti Andrea De Loco a un insegnante che consiglio si sente di dire quando si trova di fronte a ragazzo che inizia a dimostrare questi problemi allora il mio motto è date un credito di fiducia cos'è il credito di fiducia vuol dire mettete i ragazzi nella condizione migliore per ciascuno di loro di esprimere le sue capacità e quindi significa se io devo usare delle parole chiave o delle mappe concettuali o un computer per recuperare le informazioni e lascialo fare quello che conta è che tu sappia interpretare il suo contributo originale dentro a quel io ho fatto di recente promossa dall'AID un'esperienza con colleghi universitari in un filmato che è disponibile che è intitolato nei miei panni in cui do loro una serie di mappe concettuali dicendo dai risolvete queste domande ma se uno non conosce l'argomento e quindi non l'ha studiato non l'ha ascoltato al docente avere le mappe concettuali non gli serve quindi l'ambiguità più grossa dei docenti è credere che dare ai ragazzi degli strumenti per supportare la loro memoria di lavoro e quindi per favorire i processi di correlazione e combattere la conoscenza irrelata perché invece la conoscenza acquisita a memoria come quella che ha detto lei anche se è una conoscenza irrelata non so quando non so come fare per preparare un esame anche i miei studenti universitari dicono imparo tutto la memoria va bene ma se io vado fuori un attimo dal seminato per vedere cosa hai capito scopro che non ho capito niente quindi anche quella è conoscenza irrelata quindi il consiglio che io do agli insegnanti è credito di fiducia non abbiate paura che i ragazzi vi fregano o vi freghino quando voi gli date le mappe concettuali non abbiate paura di dare fiducia e di promuovere modi diversi di apprendere date un credito di fiducia e loro vi saranno riconoscenti certo un modo diverso di far scuola certamente la cooperazione il lavoro in gruppo va promosso va incentivato quindi tutta un'altra scuola di te è un titolo appunto di un volume che è stato appena riedito tutta un'altra scuola esatto direi che queste sono le parole finali di questa nostra chiacchierata grazie mille per essere stato con noi grazie a voi e buon lavoro a tutti e buona scuola a tutti e buon futuro perché la scuola è il futuro grazie grazie a tutti